Senatore. No, grazie. Pronto? Ciao, Luigi. Ehi, non sei ancora a Roma? No. Sono quattro giorni che ti cerco, perché ti nascondi? Non mi nascondo. E allora cosa aspetti? Ma che devo fare a Roma? Ma com'è che devi fare? Votare! Domani tutti a Roma, è un ordine del Presidente, non puoi mancare! Vabbè, ciao. Parti? Sì. Vai a Udine? Sì. E che fai sulla porta? Tu vai a Roma? Sì, credo di sì. Come voterai? Come non lo sai? È una questione di vita o di morte. Senti, Maria, non voglio ti discutere, tanto tu non convincerai me, io non convincerò te. E' una Godina e d'organica disciplina legislativa. Grazie.